Per una parte consistente dell'unionalità non è che non fuma solo una bella metafora, l'increzione del Salmo, 62-62, che comincia sintomaticamente così. Dio mio, Dio mio amato Signore, solo te, fin dall'alba desiderò il mio essere a sedere di te. A te arriva la mia come arido, terra, rialza. Chi si rivolge con paure così alcolate al Signore appartiene ai popoli del deserto. Per i quali l'arco è un riferimento primario della vita per la morte. Tali erano le tribù, a quel tempo di salere, che a lungo in larga misura vissero da popoli del deserto. E in seguito, anche quando diventano stanziali dopo l'ingresso nella terra promessa, non cessavano del tutto di esserlo. La prolungata siccità all'avanzare del deserto si affacciò comunque sempre all'orizzonte. Dunno, la prima fondamentale relazione con l'acqua per i sederi e per i popoli del deserto rimase e rimane fondamentale da Bibbia. Poi i patriachi nella loro previnazione sono marcati storicamente e spiritualmente da rilevamento e dallo scavo di pozzi alla ricerca continua di sorgenti di acqua. Mi chiedo scusa, io non sono abituato a leggere, ma siccome devo andare via in fretta per un funerato, andrò per rispesso, perché a me ti stai portando a questi fogli a una sciagura per voi. Mi chiedo scusa, io mi chiedo per voi, scusa, non sono abituato. E questi patriachi si rapportano ai pozzi come se fossero dei figli che non possono restare senza nome perché in essi si produrre la propria vita, come leggiamo in Genesi, dove si dice Esarco si mosse di là e scavò un altro pozzo per il quale non mitigavano. Allora io lo chiamavo, ci vuol dire liberi spazio, e disse pure il Signore ci ha dato spazio libero perché noi prosperiamo nel paese. E quando poi nel cammino del popolo e grande afferrò la tesa più impegnativa e prevedibile nella sua storia, quella del compimento di un regno che si viene a definire come messianico, si colverà proprio all'immagine delle sorgenti inesauribili per esprimere in profezia che quello evento sarà la realizzazione piena di ogni speranza. E dice infatti il profeta, in quel giorno, acque vive scorcheranno da Gerusalemme e scenderanno parte verso il mare orientale, parte verso il mare mediterraneo, sempre estate e inverno. E così insomma, altri testi, e dirà appunto anche il passato di questo nome della Sura 54, il versetto 54, anche i timoranti di Dio dimoreranno in giardini in mezzo a più, e il Signore darà loro avere una violanda bellissima. Si sente che sono queste tradizioni monoteistiche legate all'origine biblica del Dio, diciamo, di una fede che viene da una terra legata al deserto. Ma qui comincia un discorso che è più complesso. Qui entra veramente la risposta che ho cercato di dare a questo ragazzo che mi diceva, vai un po' a toccare le zone di confine. Qui è il primo. Fin dall'origine, nella tradizione biblica, il cosmo non è assolutamente identificabile con il Dio, come invece avviene in molte altre tradizioni religiose. E chi mi chiedeva questo, era l'uomo di queste tradizioni, come vedete nel secolo. Le armi primordiali, che tante parti hanno in svariate mitologie delle origini, sono semplicemente il nulla, prima dell'intervento creativo di Dio, secondo la Bibbia. Egli non si confonde mai con esso. La prima parte del libro della Genesi sancisce in modo definitivo che ogni alimento della natura è pura creatura. E l'acqua è vista come masse uniforme e inerte, su cui inalito tende spinto lo spirito che lo plasmo. che plasmo quest'acqua e le conferisce ampli enormi e propri sotto il firmamento e entro il pianeta terra. Lo spirito di Dio ha leggato la sua superficie delle acque. Cioè, ci sia una distesa tra le acque che separa le acque d'acque. E Dio fece la distesa, separa le acque che erano sotto la distesa delle acque, che erano sotto la distesa. Poi disse le acque che sono sotto il cielo, si erano raccolte in un unico luogo e a fare l'asciutto. E così fu, e Dio chiamò l'asciutto terra, e chiamò la raccolta delle acque mare, e Dio vide che questo era buono. Così, di grande del potere di identificazioni misteriose e divine, l'acqua al pari di tutta la natura, nella tradizione religiosa ebraica, cristiana, e credo anche, e penso, islamica, conserva tuttavia una sua inutenza primordialità crezionale e vitale, che le consente di diventare un velo concreto e simbolo, con lo stesso tempo, di alcuni fondamentali eventi di fede. E ciò che vediamo nel dialogo di Gesù con la Samaritana, ad esempio, è un dialogo che significativamente avviene presso il Pozzo di Giacobbe, con un punto forte di riferimento. Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammilo bere, tu stessa non mi avresti chiesto le idee che ti avrebbe dato acqua viva. Il bere dell'acqua che io ti darò non avrà mai più sede, anzi, l'acqua che io gli darò diventerà il lusso e la gente, l'acqua che zampilla per la vita eterna. Ed è ancora l'acqua che Gesù sceglie per il battesimo, come fu accettato, in doppio senso, di ritorno alla purezza della tradizione ebraica, continuando e perfezionando la predicazione identificata nella figura di Giovanni Battista, e di apertura alla fede nella sua persona come compimento di promesse che in quella figura erano anticipate. L'acqua si carica così di valenze simboliche e mistiche che saranno continuamente arricchite nella riflessione lunghi secoli e raccolti soprattutto nella liturgia battesimale, come si vede ad esempio nella lunga, articolata, preghiera di benedizione dell'acqua nel rito latino e ancora più diffusamente nel rito della Chiesa orientale. Questo davvero è un momento molto interessante, che oggi suona straniante, ma dovrebbe essere motivo di ricollece l'azione. Ma venendo ad altri passaggi, il padre in un'altra sfera culturale come mi chiedevano la persona, negli anni che seguono la conquista spagnola del centro america e del messico, in un contesto certamente carico di carrile con violenze, non mancavano neppure occasioni di confondere la vita dei conquistatori e le tradizioni locali in forma di reciproca scolta e tolleranza, uno di questi ci offre una impressionante dichiarazione dei capi religiosi e politici dell'impero asteco di fronte ai francescani, che erano appena giunti dalla Spagna in missione speciale per convertirli. I francescani erano dodici, con uno a carico di significato religioso, o riferimento evidentemente ai dodici apostoli religiosi, e ai primi dodici discepoli di San Francesco, per sottolineare l'importanza dello scopo che si proponeva, una nuova, epocale evangelizzazione che avrebbe rinnovato l'intera cristianità. Quando i missionari davanti ai collochi hanno finito di esporre un compendio del credo, si sentivano raccogliere questa sorprendente dichiarazione di fede previa da parte del portavoce dei capi aztecni e dei sacerdoti. Noi sappiamo che siete venuti dalle nuvole del cielo. Questa espressione venne poi precisata meglio dal portavoce dei sacerdoti e così parlò. Noi non conosciamo da dove siete venuti e dove vi siedono i vostri signori, i vostri dei, perché voi siete venuti dal mare, siete venuti dalle nuvole, e questo cammino noi non l'abbiamo mai percorso. Dio mi manda in mezzamore, voi siete i suoi occhi, le sue orecchie, la sua voce. C'era in questa espressione un modo della gentilezza diplomatica ma nello stesso tempo che si ripetevano una mentalità religiosa più generale e profonda. E qui vengono un confronto dalle religioni proletiriste e le religioni latiove. E' un discorso secondo me delicatissimo. Ho qui l'accento semplicemente, ma anche con questa persona che mi ha sollecitato è stato particolarmente intenso. Dunque, c'era in questa espressione un modo della gentilezza diplomatica dei Nafon, ma nello stesso tempo che esse ripetevano una mentalità di risolta più generale e profonda. La duttività del sistema politeista l'azzeco di recepire indefinitamente qualunque nuovo porto di credenza. Come dire, i vostri dei missionari sono i benvenuti. In effetti, il politeismo e la visione funzionalista della religione, il dio del diapo, una lò, che aveva il compito di far più o meno e di far prosperare le coltivazioni e le foreste, ha una sua funzione da svolgere nel mantenere l'ordine delle cose nel mondo. Devono mantenere l'ordine cosmo, ciascuno con la sua competenza, Paolo, sovrano di numerose debilità superterne, avrebbe dovuto dunque entrare a fatti con i nuovi venuti dall'enuti e dal mare. Ma i francescani non annunciavano nuovi dei della pioggia e delle acque, bensì un unico dio creatore di tutto il cosmo. E altri dei non esistevano, anzi avevano in sé qualcosa di demoniaco, di ingannevole, di perverso. Quest'ultimo aspetto poteva essere racconto in quanto gli dei del Politeismo a Stelro e allorragamenti altri Politeismi avevano una doppia faccia, non erano né totalmente portatori di bene, né totalmente portatori di male. Il bene e il male non sono mai assoluti, il dio che ci ha provato sotto forma di serpente dalle verdi piume era una divinità quantica e benefica, ma nello stesso tempo poteva scatenare tempeste e ciclone, sentire però di francescani affermare che tutti gli dei erano falsi, costernò i capi e i sacerdoti, dissero «Questo modo di parlare c'è del tutto nuovo e ci sembra molto scandaloso, siamo spaventati a non dire cose del genere, dissero i missionari, si può capire in quanto grave si è stata la crisi di bene che accompagnò il paesaggio dalla visione politeista della natura e della visione biblica, lo sappiamo da infinite testimonianze che oggi sono riprese con grandi attivizioni in vista di una ricca liberatura del rapporto dal cristianesimo e religione non cristiana. Dice un personaggio del grande romanzo vicino a C.B., è una miglia molto importante che vi consiglio veramente di conoscere, questo romanzo parte della trilogia di cui la citazione prende il terzo volume e l'ultimo, cioè la freccia di T.E. di Aaron Gorge, dice come la luce del giorno scaccia il buio così l'uomo bianco dispergerà tutte le nostre usanze, l'uomo bianco ha un potere che viene dal vero Dio e brucia come fuoco. Qui siamo in un momento cruciale della colonizzazione tra l'ipo e fuo della Ligeria. L'autore sta descrivendo in modo magistrale la crisi di coscienza di Ezeur, sacerdote garante di Uru, divinità di Uru, che non risponde più all'Ezee e allora un Dio trovandosi senza potere poteva prendere la fuga ma Ezeuro semplicemente ne resta annichilito e impazzisce come viene per lo mazzo. Le acque e la natura per un credente politeista sono luoghi di presenze reali e attive nel bene e nel male. Il rapporto con la natura implica sempre una relazione con qualche spirito con cui devi fare i conti. La pioggia sembro dire 5% ecco il momento non ci sono più case lungo la strada dove possono cercare rifugio. Staccò entrambi le mani sul supporto peccati con un immenso soffocante abbandono. Ripariamoci ripariamoci come un momento sottolineato per vedersi diminuire è pericoloso stare sottolineato ad un altro contemporaneo come questo. Andiamo avanti non siamo sale non portiamo al posto un incantesimo malvagio almeno io la splendida di un'immagine iniziale della pioggia parlante che richiama la divinità specifica della presiede introduce poi con la fusione all'incantesimo un aspetto più ambiguo di ogni visione politeistra e animista e sapendo accolmare di presenze la natura e corre facilmente il rischio di cadere sotto la sfera della magia e gli infusi benedici e maledici con le loro regge e i loro ricatti in fondo crea prigionie dello spirito se volete leggere un romanzo da questo punto di vista tremendo e anche molto interessante è il romanzo di Amos tutuola la mia vita nel posto degli spiriti ce ne offre un valore estremo e paradossale nello stesso tempo anche la tradizione cristiana occidentale ne conserva tracce fondanti come dimostra quello specchio distorto sì ma a suo modo eloquente che fu l'inquisizione per delitti di magia dove l'asso gioca un ruolo importante in vari momenti e in varie forme intanto nel corso dei secoli e per incluso soprattutto di certe tradizioni delle popolazioni germaniche migrate in Occidente si era rafforzata la convinzione già presente in epoca greco-romana secondo cui il cielo sotto la luna le sfere dell'aria dell'acqua e del fuoco erano in qualche modo ancora sotto il potere di spiriti e spiriti demoniaci sia pure sempre contrastati da angeli eccetto sotto il controllo definitivo di Dio oggi noi abbiamo la democrazia all'era che gli altri ci tengono compagnia l'era piano non è così nella storia dell'era c'è dunque ma Dio si sosteneva avrebbe permesso una certa libertà per mettere una nuova l'uomo durante la vita il terreno maghi e streghe potevano venire a patto con queste potenze demoniache e in cambio avrebbero ottenuto poteri eccezionali in diversi amici dell'abito umana e degli eventi meteorologici la questione non era di poco conto se infatti si credeva che avessero davvero un tale potere maghi e streghe essi sarebbero stati in grado di scatenare veri e propri cataclismi o merito in caso di disastri atmosferici o di indivinamento delle acque e di siccità ci sarebbe venuto ricercare in loro i veri colpelli in questi casi limite in questi casi limite in certi periodi del 500 e del 600 pur essendo in pieno mondo cristiano si diffonde l'idea che le acque del cielo e della terra possono essere l'abito in cui è possibile che si scatene il nostro potere di forza prima e queste sequenze penali erano gravissime di norma il robot perché avevano tentato di dissolvere la legge della natura con potere eccezionale devono essere dissorti pedagogicamente significando ciò che è essere uno compiuto come diritto non si tratta solo di situazioni estreme di apretto che si deve dire in generale ecco ti chiedo la conclusione di questo mio amico di ripensamento si deve dire in generale che la visione politeista e animista della natura rimane una provocazione costante per tutte le religioni monoteistiche a volte questa provocazione è resa più acuta dalla particolare situazione in cui vive la società secolare e il cristianesimo che si trova in queste parti del mondo qui infatti la realtà pare aver perso quasi tutto la visione creaturale della natura e quindi anche dell'acqua creaturale nel senso cristiano ne consegue che ci si raccorda ad esse come alcuni beni materiali a beni di illimitato uso e consumo di cui alcune polemiche recenti proprio sul rapporto con l'acqua e le diverse cività e le regioni un pensatore contemporaneo immagina questo diavolo tra un indù e un occidentale voglio occidentale dice l'inviano a uno suo compagno di viaggio occidentale che si truffa in una pozza d'acqua nel deserto per rinfrescarsi se non capite il significato sacco dell'acqua e la utilizzate solo per giocare c voi indiani rispondono occidentali conferite a ogni elemento naturale un carattere sacco e vi private per il sud e il cielo è vero rispondono entrambi perplessi e inalbacati in confronto e immaginando tra un occidentale e un indiano potrebbe essere tra un indiano per base su una certa modernità oppure viceversa tra un occidentale come immaginato in un dialogo è un occidentale che non si riconosce in certi aspetti di radicale secolarizzazione dello stesso occidente ma il discorso è senza frontiere e si può ambientare in Africa in Asia in America in Europa e chissà forse anche nelle stelle e nei pianeti grazie a tutti grazie a tutti